Buongiorno a tutti i telespettatori di Mattino 6, questa mattina lunedì 30 dicembre 2019. Abbiamo la nostra consueta rassegna stampa dei quotidiani che questa mattina troviamo nelle edicole. Vogliamo subito passare alla lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali. Iniziamo subito con il centro della provincia di Pescara. Titolo di apertura, concerti attese per 20.000 persone a Pescara Metal Detector agli ingressi nell'area di risulta per i due giorni di festa. Nel taglio alto il governo, il ministro Conte verso la verifica, il nodo è la prescrizione. Nella centropagina, foto di apertura, vediamo la partita che si è svolta ieri allo stadio Cornacchia. Il Pescara non sfonda, l'anno si conclude senza gol. 0-0 l'andata tra il Chievo e il Pescara. Negli articoli di spalla, di destra, appello ai cittadini, i carabinieri, furti nelle case, date l'allarme. Sia a Pescara sia in provincia sono in calo i furti nelle abitazioni, ma dai carabinieri parte un importante appello ai cittadini. E inoltre, sempre a Pescara, via Lento, la Caritas ospita 100 senza tetto per il Cenone. Nel taglio basso, sul A14, ancora una giornata di code, fino a 4 chilometri di fila tra Pineto e Pescara. Marsiglio, il presidente della regione Abruzzo, dice che è un percorso di guerra. E sempre nella comune di Pescara, disabili, apre una palestra a Villa di Riseis. L'accordo con la regione scuole sicure, ecco i 47 milioni da cassa, depositi e prestiti. E inoltre, il bonus sociale, acqua, luce, gas, le agevolazioni per avere le bollette più leggere. Vogliamo adesso spostarci sempre al centro, però questa volta della provincia di Chiedi e anche delle zone di Lanciano e Vasto. Il comune vuole fare 16 mila multe. Chiedi spunta la simma delle contravenzioni per i primi sei mesi del 2020. Nel centro pagina abbiamo la foto di copertina. Vasto, quartieri senza acqua da 5 giorni. Sale la protesta, vediamo qui lavoro in corso anche di notte, per riparare la rete idrica con la broda. Vasto esplode anche la polemica. Nell'articolo di spalla di destra, Chiedi nuovo sindaco, il Partito Democratico avremo un candidato, annuncio del segretario cittadino Filippo Di Giovanni. A Lanciano, invece, scuola sfrattata ma senza lavori e protesta. Scoppia la protesta dei genitori dei 270 alunni della scuola di Olmo di Riccio. Nel taglio basso, ad Ortona, Tari e Tasi, calcoli sbagliati per mille utenti. Vogliamo adesso leggere la prima pagina sempre del quotidiano. Il centro, questa volta però, della provincia di Teramo. Sull'acqua, 14, 4 chilometri di fila. Tra Pineto e Pescara, altra giornata di code. e Marsiglio, il presidente della regione Abruzzo, dice percorso di guerra. Al centro pagina, foto di apertura. Il Roseto vince la sfida salvezza con la Juve Caserta. Qui vediamo Bobby Jones del Roseto nella sfida con Caserta. Nel comune di Silvi, ucciso dall'elica, scatta l'accusa di omicidio a poco meno di 4 mesi dal drammatico incidente del mare con un pensionato che è stato falciato dall'elica di una barca mentre nuotava e la procura chiude proprio l'indagine e conferma l'accusa di omicidio colposo per il proprietario dell'imbarcazione. Ancora sempre sugli articoli di Spalla, Teramo auto si schianta contro un muro, vigilante grave. E a Mosciano, ieri, a fuoco il fienile di un consigliere comunale. Sempre nel taglio basso, invece, nell'inferno delle baby prostitute, a Teramo il drammatico racconto dei volontari che raccolgono aiuti per la Moldavia. Dalla provincia di Teramo ci spostiamo alla provincia dell'Aquila ma anche delle zone di Avezzano e Sulmona. Biondi, il sindaco dell'Aquila, la ricostruzione a rischio. Il sindaco al premio al conte nel 2020 altre norme o si ferma. Centropagina, vediamo l'Aquila, la presentazione a casa Onna, un libro di Paris su 42 personaggi della cultura. Negli articoli di Spalla di Sinistra, ad Avezzano, due donne picchiate dai compagni. I carabinieri hanno denunciato per maltrattamenti due giovani, un romeno e un marocchino. E a Sulmona, invece, niente albero nell'area SNAM nuovo di vieto. Il questore ha di nuovo vietato agli ambientalisti di piantare un albero di meno nell'area SNAM. Nell'occasione dell'ennesima protesta contro il metano d'otto. Vogliamo adesso spostarci alla prima pagina del quotidiano, il messaggero quotidiano della regione Abruzzo. Vediamo un attimo che si sta, eccolo qui. Sta caricando la pagina. Intanto vediamo il taglio alto, vasto, rubinetti, asciutti, torna alla crisi dell'acqua nei 39 comuni. E sempre nel taglio alto il sindaco bionde a conte, decreto sisma dell'utente. Titolo invece di apertura del messaggero, il caos inverte la rotta sull'A14. Dopo i blocchi di Natale sulla corsia sud, ora la paralisi del traffico. Verso nord, revoca dei sequestri, appena finite le feste, l'incontro con la procura di Avellino. Nel centro pagina vediamo anche la foto di apertura. Serie B pari utili col Chievo, Sebastiani annuncia rinforzi. Pescara scoppia il caso Memushai e vediamo che è finita 0-0 all'Adriatico con il Chievo. Bulli invece è ragazzino preso a botte vicino alla chiesa. Il quindicenne ha cerchiato, colpito e insultato sul cellulare. Messaggi di intimidazione, questo è successo nel comune di Silvi. Vogliamo adesso spostarci alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Iniziamo subito con il Corriere della Sera. Negli Stati Uniti d'America, gli attacchi antisemiti. Colmachete, in casa del rabbino, tredicesimo episodio dall'8 dicembre. New York, cinque feriti di cui due gravi. Il governatore Cuomo, atto di terrorismo domestico. Nel centro pagina vediamo qui la foto di Corso Francia, dove è successo il tragico incidente delle due ragazze, Gaia e Camilla. Le ragazze travolte, parla Giulia Buongiorno, ancora incidenti e paura. Questa non è una fiction rispettate Gaia e Camilla. Abbiamo visto che le indagini che sono partite dai giornalisti si attraversa ancora con il semaforo rosso su quel tratto di strada, molto pericoloso. Andiamo avanti con il quotidiano Repubblica. Il ministro Conte, resto in politica, non voglio fondare un partito ma dare un contributo concreto al paese. Zingaretti invece dice crescita e giustizia fiscale. Lavoro e coesione nazionali, temi al centro del tradizionale discorso di fine anno invece del presidente Mattarella. Provenzano invece dice il sud è un'emergenza, investiamo 100 miliardi. Nel centro pagina foto di apertura, quello che è accaduto ieri a New York, antisemitismo, assalto col machete e a casa di un rabbino. Cinque feriti gravi, l'ultimo di una serie di attacchi. Vogliamo andare avanti spostandoci sulla prima pagina del fatto quotidiano. Salvini balle a reti unificate in par condition, continua il predominio del capo leghista in TG e Tarsho. Nove ore e dieci ore, novembre e dieci ore a lui, sei a Di Maio, cinque a Conte, quattro a Meloni, tre a Renzi e due a Zingaretti. Nel taglio alto invece Cacciari, nelle miglia il PD vince, se perde però salta il governo. E sempre nel taglio alto, inchieste del media parte sugli affari del Dragone, la Cina all'offensiva, ora la via della Seta, passa per la Turchia. Vogliamo andare avanti spostandoci sul quotidiano nazionale. Il giornale, titolo di apertura allarme dei servizi immigrati, gli 007, terroristi dalla Libia, l'intelligence in arrivo dall'Africa, clandestini e fondamentalisti. Intanto ripartono gli sbarchi, questo è quello che viene detto dal quotidiano Il Giornale. Il trucco dei parlamentari, invece, i grillini ci fanno pagare i soldi per casaleggio. Bomba, quota 100, la Lega fa il botto al Sud. Questo è quanto viene riportato sulla quota 100. Invece, adesso ci spostiamo su altri quotidiani, vogliamo leggere la prima pagina del mattino di Napoli. Le inchieste del mattino, Sud pioggia di miliardi, tesoro da non sprecare. Fondi per le infrastrutture e il lavoro, le risorse valgono 40 miliardi. L'allarme Svimez sui ritardi nella capacità di spesa degli ultimi cinque anni. Inoltre, il discorso di fine anno del presidente Mattarella, identità e coesione. Questo è l'appello che ci fa il nostro presidente. Poi, la corsa per le regionali, la sfida della Santelli, la Calabria Forte fa bene a tutto il mezzogiorno. E poi, nel taglio basso, vediamo la campagna, maxi finanziamento in bilancio, l'osservatorio delle buone pratiche che costa la regione 100 mila euro l'anno. Il quotidiano libero, titolo anche qui di apertura, Salvini sale, Conte scende. Matteo svela il piano per andare al potere. Dice, sto studiando da premio e ne ho stretto nuovi rapporti all'estero in Italia. Tra un anno il Movimento 5 Stelle sarà assorbito dal Partito Democratico. Altri grillini entreranno nella Lega. Non pensavo di arrivare così in alto. Se processano me, processano gli italiani. Dice Salvini, è ora di mettere mano ai tribunali. Vediamo altre notizie nel centro pagina. La giustizia sarebbe salva. Questo è quanto viene detto nell'articolo. E poi si va su altri articoli, per esempio nel box del centro pagina di destra, l'articolo di spalla, attentato antisemita quando un nero accoltella gli ebrei. Meglio non dirlo. Questo è quanto viene riportato. Poi passiamo al messaggero quotidiano di Roma. La squadra giallorossa cambia guida. Questo è quanto è accaduto in questi giorni. Una Roma a peso d'oro. Friedkin e Pallotta trovano l'accordo per il passaggio di proprietà. 790 milioni a dodò ore l'ufficialità. Gim e via dopo sette anni senza successi. Resta l'enigma stadio. Nel centro pagina vediamo il ministro Conte. Grana giustizia. Italia viva il governo rischia. Prescrizione. I renziani pronti a votare con forza Italia. Antisemitismo. L'attacco a rabbino scuote l'America. Allarme di Trump. Nel taglio basso vediamo della tragica vicenda di Roma. A Corso Francia i risultati dei primi riscontri d'indagine e delle testimonianze. Gaia e Camilla non erano sulle strisce. Questo è quanto viene riportato dagli accertamenti che sono stati fatti in questi giorni. E inoltre gli effetti della guerra a migranti. C'è il rischio boom dalla Libia. La Alan Kurdi ne sbarca a 32 a Pozzallo. Questo è quanto viene riportato dal quotidiano Il Messaggero. Vogliamo adesso vedere la prima pagina del quotidiano del Sole 24 ore del lunedì. Guida al 2020. 135 novità tra casa, auto e famiglia. Calendario di un anno. Bonus a tutti i neonati. Stop ai super ticket, plastiche e super tax. Monopattini come bici e storia alla maturità. Inoltre nel centro pagina vediamo l'articolo che parla della flag tax. Addio per 1 su 4 stretta al forfetto. L'esclusione da regime agevolato potrebbe riguardare da dopo domani circa 500 mila soggetti che ora dovranno emettere la fattura elettronica e applicare l'IVA. Inoltre il caso giustizia, la legge spazza corrotti vacilla sotto il tiro dei ricorsi alla consulta. E vogliamo adesso spostarci su altri quotidiani. Parliamo adesso di quello che è riportato nella prima pagina del quotidiano La Verità. Arriva il ministro dei centri sociali. Chi è Gaetano Manfredi, imputato per la ricostruzione dopo il sisma. Il prescelto da Giuseppi per guidare l'università è un fan delle occupazioni. Utile forma di aggregazione e da non criminalizzare. Peccato che quest'anno alla sapienza ci sia scappato il morto. E un suo ex collega lo accusa. Ha piazzato analfabeti scientifici. Questo è quanto riporta il quotidiano La Verità. Nel centropagina l'Unione Europea sprega in aiuti 3 miliardi l'anno. Finanziamo persino i bagni in Niger. I revisori dei conti bacchettano la Commissione. Programmi costosi e senza impatto. C'è anche un'inchiesta. C'è anche una Bibiano. Degli anziani gli amministratori di sostegno dovrebbero tutelarli. Invece spesso li derubano. Questo si parla degli amministratori di sostegno che dovrebbero tutelare invalidi anziani. Non autosufficienti invece spesso li reggirano per impadronirsi dei loro patrimoni. C'è pure chi ha intascato le rette che doveva versare alla struttura di cura a cui era ospito un disabile grave. La chiesa di Bergoglio si dà al paganesimo. Questa è un'altra notizia riportata dal quotidiano La Verità. Vogliamo adesso andare avanti leggendo la prima pagina del quotidiano La Stampa. Governo Conte pronto a rivedere il reddito di cittadinanza e pensioni. Intervista alla Fornero. Qua da 100 misura demagogica. Salvini avverte se la vedranno con il popolo. Inoltre il 2020 dei leader. Le spine di Di Maio. Libia, Cina e la Fronda per il doppio incarico. Questo è quanto viene riportato. E poi si parla della regina del volley. Campione dell'anno per la stampa Egonu. Paola Egonu è nata a Cittadella in provincia di Padova da genitori nigeriani. Stata premiata dalla stampa campione dell'anno. Vogliamo adesso vedere la prima pagina del quotidiano Il Tempo. Dove si parla della P3. La P3 esiste davvero. Cerimonia inaugurale nella capitale. Il fondatore è un gran maestro romeno. Gelli mi ha nominato su erede spirituale cinque anni fa. Il braccio destro sarà Fioramonti, l'ex amministratore della cassaforte della Lega Bossiana. E poi nel centro pagina si parla del nuovo proprietario della Roma, Roma Calcio. La Roma diventa texana. Pallotta vende a Friedkin. E qui vediamo nella foto il nuovo proprietario della Roma con l'ex proprietario Pallotta. Corso Francia, si parla della triste vicenda. A stesso punto altro incidente. Anziana si distrae per guardare i fiori e tampona la polizia. Invece Colombo prende a fuoco sulla Cristoforo Colombo, una via principale di Roma. L'ennesimo autobus, due casi in tre giorni. L'Atac nega al Tempo l'accesso agli atti. E niente ordinanza a Capotanno, botti a volontà. Non ancora firmato il divieto di usare fuochi. L'anno scorso arrivò all'ultimo momento l'ordinanza della sindaca Virginia Raggi. E poi il dossiere Famiglie vittime degli istruzzini. Fenomeno in crescita. Anche i dipendenti finiscono nella rete. All'Avigno, comune sul litorale romano del Roma Sud, spazzini volontari a pulire la spiaggia. Due giorni ecologica per accogliere la marea di plastica. Dal quotidiano al Tempo al quotidiano il Secolo, diretto dal direttore Francesco Storace. Poliziotti in castigo, come ti maltrattano gli agenti, senza buoni pasto, ma con docce gelata. Cada a Bologna, non ditolo a Bonaccini. Questo è quanto viene riportato dal quotidiano in prima pagina. Inoltre, articoli in primo piano. Discarica di Traiatella. Il Movimento 5 Stelle toglie la voce a Fratelli d'Italia. Alan Curdia, Pozzallo, Conte, Apreporti e Portoni. E poi il grande buco di Alitalia, spesi 900 milioni in due anni, tra il 2015 e il 2017. Vogliamo adesso passare al secolo XIX. Liguria in coda, danni al turismo. I sindaci pronti alla class action. Sanremo e Savona guidano la protesta. Il governatore Totti, paghiamo la guerra a governo, concessionaria oggi vertice con Aspi, Aspi Autostrade per l'Italia. Nel centro pagina vediamo Genova, migliaia in piazza per il Maxi Veglione. Inoltre, vogliamo andare avanti con le prime pagine dei quotidiani sportivi. Abbiamo terminato quelle dei quotidiani nazionali. I quotidiani sportivi. Si parla sulla Gazzetta dello Sport del nuovo proprietario della Roma Calcio. Il club passa a Friedkin, un affare record di milioni di dollari a Roma. Da un americano, riporta l'articolo all'altro, per 790 milioni di euro. Mai una società diavalutata così tanto alla scoperta dei progetti del texano che sta comprando da pallotta. Inoltre, Conte festa Inter. Tornano Sanchez e Barella e Vidal. Il tecnico apre l'allenamento ai tifosi e poi spreme subito la squadra in vista dell'incontro con il Napoli. Poi si parla di Cristiano Ronaldo. Metti una sera a Dubai con Ronaldo e diamo il campione. Ormai è diventato veramente un campione senza limiti e tra i più quotati a livello internazionale. Corriere dello Sport. Anche qui quotidiano sportivo, in particolare quotidiano romano. Accordo su 800 milioni, il magnate texano pronto a rilevare la maggioranza. Oggi l'annuncio. Vediamo qui nella foto cifra record. Anche qui riporta il quotidiano il Corriere dello Sport. Per l'acquisto di un club italiano. Ma l'ultima parola la darà le due diligence legale. Poi la firma sul passaggio di proprietà. Dopo otto anni senza Toffrey, pallotta e soci. Via con 200 milioni di guadagno. Lo stadio per ora fuori dall'intesa. Questo è quanto viene riportato dal quotidiano Il Corriere dello Sport. Festa Gattuso, nuovo allenatore del Napoli. Il Sidi Lobotta cambia il Napoli. Il centrocampista slovacco ha dato il via libera al Celta. 25 milioni e si chiude l'affare. Vogliamo adesso passare all'ultimo quotidiano sportivo. Prima di fare un break pubblicitario. Si parla di altro acquisto. Ecco perché la Juve lo ha mollato. Haaland 125 milioni. Borussia Dortmund ha vinto l'asta. Operazione da Cozzi Pazzeschi. 22 milioni al Salisburgo. 80 milioni lordi al Bomber. 8 milioni al Padre. E 15 a Raiola. Questo è quanto viene riportato dalle informazioni di stampa. E poi Inter alla Cilena. Sorridi Conte, Riecco, Sanchez, Vital e avanti. Il re del mondo. Qui vediamo in prima pagina Cristiano Ronaldo. 34 anni con la compagna. E Cristiano Ronaldo incoronato a Dubai come miglior giocatore del 2019. Questo è quanto è stato fatto in questi giorni. Vogliamo adesso, dopo quest'ultima notizia, fermarci per un breve break pubblicitario. Prima di passare alla lettura dei quotidiani regionali, in particolar modo andiamo a leggere le pagine interne. Ma prima di ascoltare i messaggi per gli acquisti, vogliamo soprattutto vedere le previsioni meglio per quest'oggi. Ben ritrovati alla seconda parte di Mattino 6. La nostra sempre rassegna stampa. Vogliamo subito passare alla lettura delle pagine interne dei quotidiani regionali. Vogliamo iniziare con il quotidiano, il centro della provincia di Pescara. Scuole sicure in arrivo, un assist da 47 milioni di euro. Siglato il contratto da Regione Cassa Depositi e Prestiti che anticipa i fondi. I lavori riguardano l'adeguamento sismico e la ricostruzione di nuovi edifici. Qui riporta sono 15 gli interventi da realizzare sull'intero territorio abruzzese. A monitorare la spesa saranno il Ministero dell'Istruzione e quello dell'Economia. Nell'articolo di spalla, di destra, truffe telefoniche. La Polizia avverte attenti alle chiamate estere. In particolare sono quelle chiamate da numeri telefonici con prefisso estero. Un solo squillo che incuriosisce chi lo riceve e lo induce a richiamare. La Polizia dice niente di più sbagliato e che negli ultimi giorni ha ricevuto numerose segnalazioni proprio da parte degli utenti che hanno ricevuto queste chiamate. Ancora sul centro, il commercio impennata delle SRL. In Abruzzo le società a responsabilità limitata crescono più della media nazionale. Questo è quanto viene riportato dal settore del commercio abruzzese. Invece la sanità, Paolucci, consigliere regionale, sollecita l'istituzione della Commissione sul diabete. Vogliamo ricordare Paolucci, oltre che consigliere regionale, è stato anche ex assessore alla sanità con la precedente giunta. Acqua, luce e gas, tutte le agevolazioni. L'autorità a Rera ha alzato il limite ISE per chiedere gli sconti in bolletta. Ecco come chiederli e a quanto ammontano. Qui si parla proprio del bonus sociale, chi e soprattutto chi ne ha diritto, dove si presenta la domanda e come vengono corrisposti gli sconti. Andiamo avanti. Si parla anche delle aziende abruzzesi, eccellente per l'export. Iniziativa della Fondazione Nakima. Dopo un prestigioso incontro a Roma, la trasferta negli Stati Uniti. Quindi vogliamo cambiare pagina, ci spostiamo adesso al comune di Pescara. Capodanno, due giorni di eventi, concerti attesi 20.000 persone, sia alla festa ma senza botti e spray. Metal detector e perquisizione agli accessi per garantire la sicurezza nello spazio degli spettacoli. Commercianti e albergatori promuovono il comune, bene così da gennaio al lavoro per migliorare. E qui parla anche Emilio Schirato della Fedalberghi. Dice che è stata imboccata la strada giusta da gennaio al lavoro con il comune per attirare più gente da fuori regione per gli eventi. Vogliamo spostarci. Il comune di Pianella festeggia i volontari della Croce Rossa, vertici regionali e nazionali, per il ventennale della sezione della Croce Rossa. Questo è stato proprio fatto ieri a la Croce Rossa, a Casa Pianella. Vogliamo andare avanti, spostiamoci adesso sempre al comune di Pescara. Sport e disabili a Villa dei Riseis, inaugurata la palestra all'aperto. Giochi arrampicate per i più piccoli, attrezzi anche per la ginnastica di chi è in carrozzella. Dal prossimo anno la Coppa Aurora che gestisce la zona organizzata. Corsi su alimentazione e salute. Qui vediamo proprio nelle foto il taglio del nastro e anche alcuni attrezzi installati nella palestra del parco. Stop ai ladri, furti in calo nelle case. I carabinieri, dicono cittadini, collaborate, raddoppiati controlli a Montesilvano, città Sant'Angelo, Elerice, Loreto, Moscufo e Colle Corvino. Nei giorni di festa, 800 interventi dei militari, segnalati i casi sospetti, anche in forma anonima. Questo è i furti nella provincia di Pescara tra il 2018 e il 2019. A Francavilla, ci spostiamo sul litorale sud del comune di Pescara. Francavilla vieta i botti, si sola i fuochi luminosi, ordinanza del comune, festeggiamenti possibili dalle 10 di domani per 24 ore. Stamane, cerimonia per ricordare i 21 caturi dell'ecidio nazista di Santa Cecilia. E inoltre, nel taglio basso, a Cepagatti, viene celebrata la sua scienziata. Consiglio riunito per Sant'Uccione, la donna dell'anno che combatte l'Alzheimer. Vogliamo cambiare comune, ci spostiamo al comune di Chiedi, ma anche nella sua provincia. Il comune farà 16 mila multe in sei mesi, spunto un documento con la stima. Dalle zone a traffico limitato all'autovelox sarà un altro anno di contravenzioni record. Qui vediamo l'elenco stilato dal 2014 al 2019, delle multe fatte pagate, ma anche quelle non pagate. Rifiuti, le tariffe vanno alle stelle, rifiuti, asili, sport e tutte le stangate. Il 2019 va in archivio come l'anno dei maxi aumenti in ogni settore. E poi, comune di Ortona, Tasi e Tari, inviate mille bollette sbagliate, l'opposizione attacca l'amministrazione comunale, devono chiedere scusa alla città. Qui vediamo i vari consiglieri che hanno praticamente fatto questo attacco all'amministrazione comunale, per l'errore che c'è stato. E sempre a Chieti, invece, di Giovanni, anche il Partito Democratico avrà un candidato sindaco. Il segretario cittadino non chiude la porta a Rispoli, ma mira una coalizione allargata. Patto tra partito e liste civiche in discontinuità con l'amministrazione di Primo. E oggi c'è l'ultimo consiglio comunale. In Aula arrivano 150 mila euro di debiti. Spostiamo nel taglio centrale. A Lanciano lavori a scuola via con un anno di ritardo. Protestano i genitori dei 270 alunni di Olmo di Riccio sfrattati, ma il cantiere però pare che al momento ancora non apre. All'Aquila il sindaco Biondi lettera al capo del governo Biondi nel 2020 nuove risorse, oppure la ricostruzione si ferma. Il primo cittadino ha indicato a Conte le priorità per continuare il rilancio della città. Per il nuovo anno bisogna proseguire la compensazione tra le maggiori uscite e minori entrate dovute proprio al problema del sisma. Infatti qui riporta anche l'articolo. Il capo dell'esecutivo comunale negli ultimi 25 anni non è mai stato approvato il bilancio prima del 31 dicembre. Qui vediamo anche nella foto il Palazzo Margherita, uno proprio dei simboli della ricostruzione pubblica del comune dell'Aquila. Il libro di Paris su 42 personaggi aquilani, presentato ieri sera a Casa Onna, l'ultima opera del giornalista dal titolo A domanda risponde. Qui lo vediamo proprio riportato anche nella foto. Ci spostiamo adesso nella zona del comune di Sulmona, ricorso al Tar, niente albero di mele nell'area SNAM. Nuovo divieto del questore dell'Aquila alla richiesta del comitato ambientalista che si batte contro il metanodotto. Qui vediamo proprio la protesta degli ambientalisti. A destra proprio un altro momento dell'iniziativa col portavoce degli ecologisti Mario Pizzola. Due donne picchiate ad Avezzano dai loro compagni. Le aggressioni ad Avezzano e San Benedetto sono sotto accusa a un romeno e un marocchino. Proprio notte di violenza domestica dove due ventisenni violenti, un romeno e un marocchino, sono stati denunciati da carabinieri della compagnia di Avezzano, dove hanno i reati, sono maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce nei confronti delle compagne di vita, nonché madri proprio dei propri figli. Giovani morti, donazioni al soccorso alpino, Corfigno, le famiglie di Barone Antonucci deceduti sul Gran Sasso hanno offerto i fondi che hanno ricevuto. A Teramo, comune di Teramo, catena di solitarietà da Teramo, i volontari in Moldavia, questo è inferno delle bebi prostitute. L'associazione Cherigma raccoglie aiuti da tutta la provincia diretti alle compagne del Paese dell'Est. Il Presidente, appena tornato, racconta la storia di una tredicenne rapinata e stuprata per tre mesi. Andiamo ancora avanti, ci spostiamo adesso sull'A14, ancora code fino a 4 chilometri. Marsilio scrive al Ministro delle Infrastrutture è un percorso di guerra, intervenite subito, oggi incontro a Roma. Qui l'articolo dice che riporta che la tregua è durata poco perché nel primo fine settimana post-natalizio le code sono tornate sull'A14, ma sul caso è tornato nuovamente il Presidente della Regione Marsilio che ha dichiarato, anche oggi, cioè rivolto a ieri, per chi legge oggi, l'A14 è stato un percorso di guerra e ha nuovamente sollecitato il Ministero e Aspie per una soluzione immediata nell'eminenza del Capodanno e del controesodo. Vogliamo, prima di passare alle pagine sportive, leggere anche le pagine interne del quotidiano il messaggero della provincia della Regione Abruzzo. Ci spostiamo sempre al Consiglio, segue l'approvazione del bilancio già da oggi. La maggioranza è disponibile ad accogliere le istanze di centrosinistra e Movimento 5 Stelle. Vediamo che al Comune di Pescara non accadeva tutto questo. Riporta qui l'articolo da anni. Fiducioso il Presidente Marcello Antonelli dell'opposizione, è stato riscontrato un atteggiamento responsabile. Invece il Sindaco di Montesilvano, De Martinis, affronta i debiti extra e seleziona due nuovi dirigenti. Va sostituito il capo dell'area tecnica e urge individuare il nuovo comandante della Polizia Locale. E sono già partiti i collochi per queste due sostituzioni. Vogliamo spostarci al Comune dell'Aquila. Anche qui si parla del Sindaco Biondi che scrive al Premier per sollecitare nuove misure di sostegno alla rinascita. Fondi per la ricostruzione da Biondi appello a Conte. Il Sindaco esalta il via libera al bilancio, prima volta in 25 anni, così si velocizza. Decreto sisma dell'utente in scadenza risorse per cantieri e progetto restart. Nei giorni proprio difficili della crisi di maggioranza, i cui contorni ed effetti sono ancora da definire, il Sindaco Pierluigi Biondi ha preso carta e penna e vergato una missiva al Premier Conte. Qui vediamo anche nella foto la piazza principale della città, simbolo della ricostruzione ancora da completare. E vogliamo andare avanti. Ci spostiamo a un articolo della Confartigianato, viaggi in Marocco reati estinti per prescrizione. Sui presunti viaggi in Marocco pagati con i soldi di Confartigianato Abruzzo scende il sipario della prescrizione da parte del Tribunale dell'Aquila, dove erano imputati l'ex presidente di Confartigianato Abruzzo, Angelo Taffo, sua moglie Paola Figurelli e Antonio Pietro Pacigli, assistiti dagli avvocati, dove i tre in concorso tra loro erano accusati a vario titolo di aver posto in essere dei raggiri consistiti nel predisporre l'estratto conto dei biglietti forniti a nome dei loro. Vogliamo andare avanti. Ci spostiamo al comune di Avezzano. Bilancio regionale. Marsica dimenticata. Per Dino Pepe e Lorenzo Berardinetti, finanziamenti a pioggia, solo per qualche piccolo centro senza strategie. L'agricoltura è passata in secondo piano. Hanno scritto i due ex assessori in un documento inviato alla comunità. Qui vediamo i lavori del Consiglio regionale. Nel tondo proprio l'ex assessore Berardinetti. Poi spostiamo al comune di Omindoli. Distervizio nel gas provoca una serie di allarmi. ha provocato una certa apprezzione ieri nella notizia riguardante il rifornimento del gas. Ovindogli questo è proprio il comunicato del sindaco che ha messo su Facebook. A Sulmona le analisi del Cogesa rientrano nella norma. Qui dicono ci fa piacere apprendere che in un'ottica di trasparenza e correttezza si abbia anticipato i dettami di una norma del prossimo aprile. E continueremo, dice, a pubblicare tutti i dati in nostro possesso per un rapporto sempre più diretto con i cittadini per consentire loro una verifica sul nostro operato giornaliero. Da Avezzano a Ovindoli ci spostiamo nel comune di Chieti. Nel 2020 la nuova ciclabile, il progetto di Bike Sharing. L'assessore Raffaele Di Felice illustra le opere in arrivo per la città green. Interventi per migliorare la qualità della vita, dice anche il sindaco di Primo. Questo è, vediamo qui nel riquadro, una mappa del percorso previsto per la nuova pista ciclabile a destra via Pescara, una delle strade che cederà una corsia alle due rote e ai pedali. Vogliamo andare avanti, ci spostiamo al comune di Teramo. Bus, meno corse alla Cona. Il comitato stop ai tagli e la riduzione del servizio di trasporti per collegare la città con il cimitero. I residenti, qui ci sono scuole e uffici, tornate indietro o via alle proteste. Questo è quanto è stato riportato dal comitato, dove vediamo anche in alto il bus e la zona interessata. Vogliamo adesso passare alle notizie sportive, partendo subito con quelle del lunedì, visto che la Serie A non ha giocato, ma hanno giocato la Serie B e anche la Serie D. Zauri e Memuschai chieda scusa, dice Zauri. Il Pescara in bianco con il Chievo, il tecnico punge l'albanese, non convocato dopo il battibecco. Ma del Pescara vediamo anche altre notizie in merito. Il Pescara va in bianco, girone d'andata a 6, il primo 0-0 contro un Chievo che mette in mostro un gran vignato. Quattro punti in due gare, blindano Zauri, ma nel ritorno deve fare meglio. Si parla anche di un'occasione fallita, prima da Machin e poi da Djordicevic, pari anche nei rigori reclamati, in una sfida non eccelsa sul piano tecnico. E poi sempre riguarda qui l'allenatore bianca-azzurro, Zauri, Memuschai è fondamentale, ma deve chiedere scusa alla squadra. Non tutti i giocatori sono uguali, però le regole valgono per tutti. Non voglio che l'Edian vada via dal mercato, vorrei un bomber. Marcuso dice magari. Però riguardo al Pescara calcio e alla partita che c'è stata ieri, vogliamo anche vedere il servizio che è stato preparato per noi. Non è bastata una buona prova al Pescara per superare il Chievo e chiudere il 2019 con il botto. Ci hanno provato per tutti i 90 minuti bianca-azzurri, ma la palla non ha voluto saperne di entrare alle spalle di Nardi. All'Adriatico è finita così 0-0 con la formazione veneta, mai battuta dagli ubruzzesi negli ultimi vent'anni, che si è confermata anche oggi un cliente scorbutico per Drudi e compagni. Zauri nel 4-3-2-1 cambia tre pedine rispetto a Livorno con il ritorno nell'undici iniziale di Fiorillo dopo due mesi di Masciangelo sulla fascia sinistra di difesa a posto di Delgrosso e di Castanis. Per Memushai non convocato per motivi disciplinari la formazione veneta senza Meggiorini e Obi. Semper e Center si schiera con il modulo ad albero di Natale. Dopo 30 secondi cartellino arancione per Masciangelo che commette un duro fallo su Segre nella zona di centrocampo. Grossa ingenuità per il difensore abruzzese che rischia di lasciare i suoi compagni in 10 uomini. Meglio i Veneti in avvio di partita con Vignato che al sesto dei 20 metri sfiora il palo. La squadra di Marcolini appare meglio registrata ma poi il Pescara crescerà con il trascorrere dei minuti. Al tredicesimo Scognamiglio in proiezione offensiva controlla il pallone in aria e calcia di pochissimo fuori. Passano 60 secondi e Masciangelo tra i migliori dal limite con un tiro insidioso. Chiamanardi al salvataggio in angolo. Cresce il Delfino con il passare dei minuti. Il Chievo però non sta a guardare visto che fra il ventiquattresimo e il venticinquesimo ha due opportunità prima con Garritano murato da Drudi e poi con Pucciarelli che colpisce il palo esterno della porta difesa da Vincenzo Fiorillo. Al ventottesimo in un match divertente si rivedono i locali ancora con Masciangelo che in aria tira fuori. Alla mezz'ora Macin innescato da Maniero dopo un errore della difesa Beronese la combina però grossa mancando il vantaggio tutto solo davanti a Nardi e facendo imbestiarire il pubblico di casa. Il Pescara meriterebbe il vantaggio invece la gara resta sullo 0-0 con i Biancazzurri però in palla insidiosi anche al 35esimo con Maniero che appare davvero in giornata positiva. La partita dell'Adriatico resta apertissima con Bussellato che poi al 42esimo sbaglia il pallonetto sull'uscita delle portiere ospite. Il primo cambio è Veneto con Giaccherini che prende il posto di Pucciarelli al quarto d'ora gran giocata di Maniero e cross in aria per Galano che al volo da ottima posizione mette a lato a fare la gara il Delfino che dopo aver sprecato tanto in attacco rischia al ventesimo quando Segre impegna Fiorillo che si salva. I Biancazzurri ci credono e continuano a spingere rischiando poi al 26esimo quando Giorgevic servito da Giaccherini si ritrova davanti a Fiorillo mancando però il bersaglio grosso. Zauri al 28esimo manda in campo come Legoni per Bussellato con gli ultimi 15 minuti di partita che vedono al 31esimo anche il ritorno in campo di Di Grazia che prende il posto di Macin apparso in giornata negativa e non solo per il gol divorato nel primo tempo Zauri passa al 4-3-3 per cercare di vincere la gara ma fino al 94esimo non accade poi più nulla con il pareggio che alla fine accontenta più la formazione ospite che il Pescara che però riesce a dare continuità alla vittoria ottenuta a Livorno. Vogliamo vedere sempre riguardo alle pagine sportive del quotidiano Il Centro viene anche riportato il girone del bilancio di andata del Pescara allo stato attuale fuori dai play-off e serve un'accelerazione il Delfino discontinuo riparte il 7 gennaio vediamo però nel taglio centrale anche gli altri risultati della serie B Sao incontenibile il Benevento ipoteca la serie A poker dei sanniti all'Ascoli infatti Benevento Ascoli 4-0 cade il Perugia Tris del Trapani e il campionato tornerà il 17 gennaio qui vediamo anche altri risultati Juve Stabia 1-0 il pareggio del Pisa 0-0 con il Frosinone e poi viene riportato anche i promossi e i bocciati della serie C si parla e si parla di altri test si parla del Giulia Nova che si ferma Barlafante l'attaccante Federico Barlafante e poi i biancazzurri del Pineto puntano ai playoff il Pineto adesso deve correre il tecnico torna in panchina dobbiamo lottare per l'alta classifica e anche i marzicani guardano al mercato dei professionisti Lavezzano a picco servono rinforzi Meco Monomaco richiamato alla guida ci sono problemi di organico sempre sulle pagine sportive il Lanciano invece comincia il 2020 con la coperta corta il mercato ha ridotto la rosa a dicembre 4 partenze e un arrivo i rossoneri senza cambi in difesa ripresa del campionato col Ponte Vomano e postifico lunedì 6 gennaio qui vediamo i giocatori anche dell'Aquila calcio comandano il girone del loro campionato di promozione l'Aquila capolista ha un suon di goleate e Marrelli torneremo in eccellenza il presidente dell'Aquila calcio e ancora invece si parla del basket riscatto Roseto vinta la sfida salvezza prova d'orgoglio di Jones e soci che dominano la Juve Caserta in una gara rimasta in biligo solo nei primi 5 minuti vogliamo andare avanti spostandoci alle pagine sportive del quotidiano il messaggero anche qui parla del pareggio del Pescara con il Chievo Verona Pescara un punto comunque utile finisce senza golle la partita all'Adriatico col Chievo ma alla fine la divisione della posta è gradita a tutti l'unica vera palla è capitata a Machin che sceglie il pallonetto però la conclusione non è delle migliori vediamo che nel taglio basso si porta anche del caso esploso nel Pescara esplode il caso Memo Zauri serve rispetto gruppo da tutelare questo è quanto riportano tutti i quotidiani Sebastiani comunque dice parlando della squadra prendo una punta siamo in linea con gli obiettivi un miracolo se analizziamo le nostre ultime dieci stagioni non voglio appesantire la rosa aspetto il rientro di Kochev e Tuminello Fiorilli invece sono felice per la porta in violata inoltre il capitano troppo poco tempo per il chiarimento tra mister ma dopo la sosta sarà già tra noi dal Pescara vogliamo passare al Teramo calcio mercato del Teramo cercasi prima punta il rinforzo per reparto avanzato è infatti uno degli obiettivi per le trattative in entrata uno degli aspetti da migliorare nel 2020 è certamente il rendimento lontano dal Bonolis qui vediamo anche sopra Simone Santoro e l'altro giocatore a destra Matteo Di Piazza e invece il Giulianova torna il Sereno oggi amichevole a Spoltora la scena sociale appianata alcune questioni qui vediamo il portiere Bifulco che dalle sue voci pare che rimane al Restal Giulianova e poi il Chiedi una rivoluzione oggi test contro l'Aquila più che il mercato di riparazione quella prontata dal Chiedi a dicembre si rivela una vera e propria rivoluzione manovre operata in piena sintonia tra la società e il tecnico Pino Di Meo e invece il notaresco tutti i numeri di un'annata fantastica la società ci crede tre giocatori acquistati per provare il salto vogliamo anche vedere si parla della vastese un anno difficile per il club di Bolami va in archivio in 2019 con tante sofferenze culminato a maggio con la salvezza conquista contro l'Agnonese il presidente abbiamo voltato pagina adesso pensiamo a iniziare il giornale di ritorno nel modo migliore battendo il Chiedi vogliamo vedere adesso con nell'ultime notizie sportive si parla del basket della vittoria del Sharks chiusura con lo Champagne battuto a Caserta in casa 84 a 72 decisivo il primo quarto con un vantaggio di 20 punti fondamentale il doppio successo con i campani in classifica conquistati i 12 punti con quest'ultima notizia sportiva vogliamo concludere la nostra quotidiana rassegna stampa di mattino 6 che riprenderà domani mattina alle ore 8 però vogliamo anche ricordarvi gli appuntamenti con i nostri telegiornali che ci saranno oggi alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 io vi ringrazio a tutti voi per l'attenzione che ci avete mostrato ma vi auguro anche una buona giornata grazie a tutti